Grazie a tutti. Ministro, che programmi ha per far risparmiare l'italiano? Una manovra, prendetela la vecchia fuori già alto, stracciatela e puntatela Poi andate su segugio.it e cercatene una più conveniente Chiaro, no? Su segugio.it confrontate le migliori assicurazioni e risparmiate Automobilisti, senza il dono E non me ne sa, non ci sono mai mangi E non me ne sa, non ci sono mai mangi E non me ne sa, non ci sono mai mangi E non me ne sa, non ci sono mai mangi E' crescita Grazie a tutti E' una persona importante E' la squadra di rimozione forzata in nuovi episodi Grazie a tutti Grazie a tutti